Andrea Caprice Revisora-Anna Friarano Revisora Vi vedete bene? Ok, ma io non vedo voi e soprattutto non vedo il bordo del palco. Quindi fatemi mettere giù questo bel nastro che mi son portato. Così, eccolo lì. così evito di cadere in braccio alle signore della prima fila anche se so che sarebbe quello che vogliono ok? Ecco, questa è l'ipovisione una malattia tra visione e cecità quindi riesco a vedere quella luce lì in fondo ma ripeto, non vedo le signore in prima fila che sono sicuramente bellissime però questa è l'ipovisione e soprattutto non riesco a distinguere bene le figure quando è buio non riesco a leggere le pagine di un libro, però riuscirei per esempio ad accogliere il nastro che ho appena appoggiato per terra senza esitare ecco, è come guardare il mondo attraverso una telecamera a bassa risoluzione, come le prime che sono state realizzate, oppure come guardare il mondo attraverso il buco di una serratura infatti gli inglesi la chiamano keyhole vision la malattia che nel mio caso porta a questa visione tubolare, a questa visione notturna molto ridotta, si chiama retinite pigmentosa è una malattia appunto una delle possibili cause di lipovisione in questo caso si tratta di una malattia genetica però le cause che possono portare all'ipovisione possono essere tante possono essere anche dovute a un incidente in questo caso si tratta di una malattia ereditaria però la sfiga non viene mai da sola quindi a me hanno dato anche l'ipoacusia e la combinazione di queste due limitazioni sensoriali prende il nome di sindrome di Asher che è una malattia che compare negli elenchi delle malattie rare quindi a me è stata diagnosticata all'età di 17 anni però è stato solo quando ne avevo più o meno 19 che ho cominciato a percepire il trauma della degenerazione perché la degenerazione ha cominciato a fare il suo corso e quindi ho cominciato a percepire questa sorta di condanna al buio e quindi l'emozione ragazzi vai che mi scorre il tempo questa sorta di condanna al buio però è stato solo nel 2011 poi che ho attuato una sorta di cambio di prospettiva quindi che ho cominciato a cambiare l'attitudine quindi di quello che posso fare invece su quello che non posso più fare ecco, e questo cambio di prospettiva l'ho portato avanti soprattutto durante un workshop che ho messo in piedi a Berlino nel 2013 dove il tema principalmente era il tema dell'accessibilità ora già vedete alle mie spalle delle immagini che riguardano degli elementi urbani perché se ci pensate gli elementi urbani sono sempre sui toni del grigio del grigio su grigio quindi i palli della luce che sono metallici piuttosto che i panettoni, i paracarri è tutto sempre sui toni del grigio su grigio quindi per gli ipovedenti questo rende molto difficile l'individuazione di questi elementi che sono tra l'altro gli elementi che caratterizzano le città però nel mio caso sono ostacoli per gli ipovedenti sono degli ostacoli ecco allora che qui colorarli di giallo sarebbe un modo per renderli più accessibili più facili da individuare e quindi magari con la giusta combinazione anche più belli le città potrebbero essere anche più belle con questa nuova tonalità di colore ecco sì però questo questo è uno dei modi questo modo di ingiallire il mondo quindi Yellow the World è una campagna che ho cercato di iniziare per cominciare ad ingiallire il mondo e con questa idea in testa nel 2015 ho detto ma sai cosa io questa ondata di giallo che invade il mondo me la voglio gustare dall'alto e qual è il posto più alto del mondo dove andare a osservare questa ondata di giallo che invade il mondo? il monte Everest e così con questa idea in testa nel 2015 ho cominciato a a preparare questo viaggio una preparazione sia mentale e psicologica che fisica nel marzo del 2015 sono partito per Katmandu da lì ho preso un velivolo che atterra a Lukla che è una cittadina a 2800 metri che vi posso garantire che già questo aeroporto è molto temibile insomma perché è una pista inclinata che finisce a strapiombo sulla valle e quindi già quell'aeroporto è stato una sorta di inizio non molto rassicurante però da lì è cominciata questa escursione e ho camminato per giorni parte il video eccolo qui parte il video che quindi ho camminato per giorni e io vedo solo al centro in questa visione tubolare a serratura che vi raccontavo prima e quindi ogni piccolo ostacolo ogni sasso ogni masso diventa quasi una difficoltà insormontabile e dovevo sempre osservare i piedi della guida che camminava di fronte a me e in alcuni casi è stato veramente impegnativo perché ho camminato anche di notte in alcune occasioni e soprattutto a meno 20 gradi con le falangi delle dita che si ghiacciano con l'acqua nella borraccia che anche quella si ghiacciava nel giro di 5 minuti quindi delle condizioni non molto semplici che si sommano a questa visione molto ridotta che quindi rende difficili anche i passi durante il giorno ecco però potete immaginare che tutta questa fatica a un certo punto è stata ripagata dall'arrivo al campo base che sono riuscito a conquistare rendendolo in qualche modo più giallo ho piantato questa sorta di segno di riconoscimento e il 25 marzo del 2015 sono arrivato al campo base dell'Everest per il momento è tutto quello che ho da dire dicevo allora quel 25 marzo grazie però appunto come dicevo le 360 gradi di panorama che si dipanavano di fronte ai miei occhi quando mentre ero nella palestra mi immaginavo queste montagne che poi sono riuscito a vedere per quanto appunto con quella risoluzione un po' ridotta è un'immagine che ripaga di tutta la fatica ma non ci si improvvisa avventurieri quindi il discorso e l'avventura comincia molti anni prima ve ne racconto alcune tappe questa è la tappa dell'attraversamento dell'outback australiano a bordo di un furgoncino poco scassato che ho fatto nel 2004 altre avventure sono state quelle del del cammino di Santiago 2007 ho camminato da San Jean-Pierre in Francia fino al confine della Spagna fino a Finisterra sulla costa dell'Atlantico 800 km che ho percorso a piedi da solo anche in quell'occasione sembrano cose di tutti i giorni ma con queste difficoltà visive e uditive sono comunque una conquista qui sono al Machu Picchu che ho raggiunto percorrendo l'Inca Trail passando anche in quell'occasione toccando i 5000 metri ai piedi del monte Salcantai ma l'altra grande avventura che invece ho fatto è quella a bordo di questo vascello di ferrocemento si chiama Heraclitus una barca di oltre 40 anni che ha solcato tutti i mari e a bordo di questo vascello io ho percorso ho vissuto a bordo di questo vascello per due anni partendo dall'Africa eccomi qui con i bambini del Mozambico con il quale ho fatto alcune attività di volontariato in un orfanatrofio e da qui sono partito e ho attraversato l'Oceano Atlantico per arrivare fino a Rio de Janeiro poi costeggiare tutta la costa della Sud America fino ad arrivare al Mare dei Carabbi fino a Cuba ecco città del capo Havana un'infinità di miglia se ci penso adesso quasi non mi viene non mi viene da crederci però cosa succede in questo mare sempre piatto uguale a se stesso che il sole almeno nell'attraversamento dell'Oceano Atlantico sorge alle tue spalle e tramonta di fronte a te tutti i giorni uguale a se stesso in un ambiente che sostanzialmente non cambia mai anche se la barca è un ambiente in costante movimento il panorama intorno a te è sempre uguale un orizzonte piatto con questo sole che costantemente ti ricorda il ciclo del giorno in questo panorama che non muta e non cambia mai cosa succede? succede accade una trasformazione che tu non sai riconoscere fino a quando arrivi sull'altra sponda ti siedi sulla sedia di un barbiere ti fai radere la barba e ti accorgi che sotto quella barba c'è la pelle bruciata dal sole dal vento che è l'immagine della trasformazione e allora è stato lì che mi sono accorto che era cambiato qualcosa proprio sull'altra sponda avevo attuato una trasformazione che è quella che per me è servita a spostare quel focus che vi dicevo prima e quindi a quella andare oltre i limiti oltre quei confini che sono il contenitore oltre il quale invece espandere i sogni le passioni i desideri ecco se questi sono i limiti che ci definiscono e se voi ci pensate tutti noi siamo fatti di limiti siamo fatti di limiti che sono quelli fisici o figurati di cui è fatto il nostro carattere perché se ci pensate siamo simpatici nella misura di quanto di quello che diciamo o di quello che non diciamo del nostro cinismo magari siamo altruisti nella misura di quello che facciamo per gli altri o che non facciamo per gli altri siamo rispettosi nella misura di quello che facciamo per l'ambiente le persone o le cose ecco tutti questi elementi del nostro carattere sono definiti dai limiti dai contorni da un perimetro dicevo anche quelli fisici magari nel mio caso è facile definire quali sono i miei limiti qui vedo qui non vedo qui vedo qui non vedo oppure quello che non sento per esempio il suono di un campanello di un telefono non lo sento quello di un trombone invece lo sento quindi è facile capire quali sono questi limiti però sono proprio quelli che mi hanno spinto poi a cercare di andare oltre di capire come potevo cercare di vincerli e quindi di trasformare di seguire le passioni di seguire i desideri perché se mi fossi fermato a quello che non vedo a questo punto non dovrei neanche scendere da quella scaletta dopo perché non lo vedo però c'è sempre un sistema per cambiare allora io non ho la pretesa che questo sia una storia necessariamente che sia di ispirazione ma bastano delle volte una scintilla un qualcosa che vi fa scoccare dentro un'idea un suono nuovo un colore nuovo e allora da oggi magari il giallo è il colore di chi vuole provare ad andare oltre di chi vuole provare a trasformare le proprie passioni ecco che allora quel take care di cui dicevamo prima diventa un prendersi cura dei sogni e allora cosa c'entrano i sogni con i marciapiedi cosa c'entrano i pali della luce con le passioni il giallo forse diventa oggi il comune denominatore di questo panorama insolito e diventa la traduzione cromatica di quel take care vuol dire prendiamoci cura dei sogni prendiamoci cura di noi grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti